Oroscopo Paolo Fox e Branco di Oggi, 23 febbraio 2023, le previsioni imperdibili, dunque, come ogni giorno, ecco l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo di Paolo Fox e Branco di Oggi. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di Oggi per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e Vergine ed il segno fortunato di Oggi. Oroscopo di Paolo Fox e Branco per i segni di Ariete. Toro, Gemelli, Cancro, Ariete, Oroscopo di Oggi, mirerai in alto, come sempre, ma sarà in salita per te progredire. Mille dubbi d'amore appariranno in questa fase. Amore, attenzione alle incomprensioni o alle situazioni poco chiare, puoi perdere molto. Usa la tua intuizione, puoi aggiustare tutto. Ricchezza, ti costerà come non adattarti mai a nessun cambiamento. Arriveranno incontri di lavoro virtuali che finiranno per essere fruttuosi in futuro. Benessere, un guerriero, è un insieme di qualità. Valori e abilità che possiedi o che puoi acquisire e che ti permetteranno di condurti verso un obiettivo più alto. Toro, Oroscopo di Oggi, farai bene negli affari, ma ti farai dei nemici, e alcuni anche pericolosi. Gli shock appariranno anche nella tua vita privata. Amore, nelle tue relazioni sentimentali, all'inizio sembra che tutto sia difficile, ma la tua astuzia ti fa arrivare a buon fine. Ricchezza, avrai la tua vendetta, ma non è ancora il tuo momento. Intuito e determinazione saranno i tuoi punti di forza per raggiungere il successo finanziario. Benessere, è importante riflettere sulla fiducia che riponi in te stesso. Se non ti fidi di te stesso, non aspettarti che lo faccia qualcun altro, Gemelli, Oroscopo di Oggi. Cerca di essere un po' più estroverso con ciò che ti circonda, in modo da poter godere di più di quegli incontri virtuali che apprezzi così tanto in questo momento. Amore, per quanto riguarda le situazioni amorose, è meglio che ti dedichi ad altre cose per il momento. Verranno tempi migliori. Ricchezza, nella tua attività lavorativa le cose inizieranno a declinare, non lasciarti sconfiggere. La situazione si capovolgerà a breve. Benessere, evita gli ambienti chiusi per un lungo periodo di tempo, piché in essi non c'è una buona ossigenazione per il tuo corpo. Fai qualche attività. Cancro, Oroscopo di Oggi, gli studi che stai facendo ti rendono più comunicativo e socievole. Oggi è un buon giorno per incontrare nuove persone. Amore, la relazione con il tuo partner sta attraversando un brutto momento. Svegliati, fai ciò che è necessario affinché questa situazione non continui più. Ricchezza, pianifica a lungo termine quando prendi decisioni sulla direzione da seguire nel tuo lavoro. Proiettati sempre nel futuro. Benessere, tendi a dire tutto ciò che pensi, ma dovrai fare uno sforzo per contenerti a meno che tu non voglia creare uno spiacevole conflitto. Oroscopo di Paolo Fox e Branco per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Leone, Oroscopo di Oggi, sarai paranoico perché l'angoscia di sentirti inesperto tortura la tua mente. Dovrai rilassarti, quindi non puoi pensare lucidamente. Amore, tutto ciò che ti accade da festeggiare dipenderà in gran parte dal rapporto con il tuo partner approfitta di questo. Bel momento. Ricchezza, non abbiate fretta di comprare o vendere, non è un buon momento. Anche quando vengono presentate offerte. Spalancate gli occhi e analizzate tutto. Benessere. Solo la fermezza di carattere ti aiuterà a discernere i e trovare le chiavi utili per uscire dalle complesse. Circostanze del presente. Vergine. Oroscopo di Oggi. L'energia positiva che riceverai avrà la forza necessaria per rilanciare la tua vita e poter recuperare parte di ciò che hai perso. Amore. La persona ideale non esiste. Esiste quella possibile, quella vera. Non essere così schizzinoso con gli altri e permettiti di conoscere gli altri. Ricchezza. Potresti avere un'importante opportunità di avanzamento professionale o miglioramento economico, ma tutto dipenderà da te. Benessere. Sfrutta i benefici del Fend Shui per armonizzare e rinnovare le energie della tua casa. Devi vivere in un ambiente senza vibrazioni negative. Bilancia. Oroscopo di Oggi. La tua gentilezza e il tuo buon carattere avvicineranno le persone. Fai attenzione, alcune persone non saranno oneste con te. Amore. Ti manifesterai con il tuo partner in modo intenso e originale. Non tirarti indietro, continua sulla strada della scoperta di ciò che ti unisce. Ricchezza. Giorno per stabilire nuovi contatti o per firmare contratti vantaggiosi. Saranno accordi con benefici a breve termine. Benessere. È conveniente che tu prenda le cose con più calma. Non permettere agli altri di assorbire tutta la tua energia con i loro problemi. Scorpione. Oroscopo di Oggi. Il tuo sesto senso sarà molto attivo oggi e potrebbe aiutarti con problemi finanziari se ci presti un po' di attenzione. Amore. Parla con il tuo partner dei conflitti che lo affliggono. Esprimi ciò che senti, ma non chiuderti, ascoltala. Ricchezza. Economicamente, entrerai in un periodo molto buono, in cui non dovresti preoccuparti di come sbarcare il lunario. Benessere. Senti di non rientrare in aree diverse, e forse è perché non appartieni a quei gruppi. Cerca altri gruppi di riferimento. Oroscopo di Paolo Fox e Branco per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Sagittario. Oroscopo di Oggi. Le perdite saranno inevitabili, ma se agisci con cautela puoi ridurle al minimo. Amore. Riceverai affermazioni che nascondono una tensione non mascherabile. Se cambi atteggiamento nell'affare, tutto tornerà come prima. Ricchezza. Investire nell'arte potrebbe essere una buona opzione se si pensa al futuro. Consulta un esperto se non sei sicuro di qualcosa. Benessere. Sarà una buona giornata per pianificare un'attività in cui rilassarti e ripensare a molti aspetti della tua vita. Capricorno. Oroscopo di Oggi. Avrai cotte di creatività. Devi sederti e scrivere tutto ciò che pensi su un foglio, perché poi lo lascerai andare. Amore. Approfitta della giornata per meditare sulla tua vita amorosa. Prima o poi dovrai prendere una decisione fondamentale per il tuo futuro. Ricchezza. Riconosci i tuoi limiti nella tua economia. Tutto non è possibile. Cerca l'equilibrio nello spirituale, non nel materiale. Benessere. Ricostruisce l'unione familiare che è stata rotta per molto tempo. Ti farà bene convincere i tuoi cari a iniziare a sistemare le cose. Acquario. Oroscopo di Oggi. La tua casa è il centro del tuo mondo, ma pretendi giustizia e uguaglianza all'interno dell'ambiente domestico. Saranno giorni indimenticabili. Amore. Vivi situazioni romantiche. Bei momenti. Non sei abituato a vedere il tuo partner come un riflesso di te stesso. Ricchezza. Sei insicuro quando prendi decisioni. Abbi fiducia che la tua evoluzione materiale possa raggiungere confini inimmaginabili. Benessere. Il dialogo è il modo migliore per risolvere i conflitti. Avvicinati alla tua famiglia e parla dei problemi che la affliggono. Pesci. Oroscopo di Oggi. Attento a ciò che desideri. Non sei disposto a correre tanti rischi. Sii calmo e agisci con prudenza. Amore. Inamore il tuo senso dell'umorismo. Il tuo coraggio e la tua audacia possono sorprendere il sesso opposto. Approfitta di queste funzionalità. Ricchezza. Sei un ottimo manager finanziario. E questo si noterà durante l'era attuale. Ma devi prendere grandi precauzioni. Benessere. Anche se quel viaggio che avevi programmato si sta avvicinando. Non avere fretta e inizia a pensarci per il prossimo anno. La settimana non ha offerto soluzioni che, però, arriveranno da marzo. E stai già pensando a una grande liberazione, a un progetto da avviare nel corso delle prossime settimane. Questo è vivo. Sta arrivando, infatti, un momento di costruzione e di impeto quasi rivoluzionario, che a breve porterà a fare scelte molto importanti.